19 progetti distribuiti in 90 date tra giugno, luglio, agosto e settembre che andranno così ad animare l'estate e a retina. Sono i progetti finanziati con il bando Il Comune Ti Coinvolge. Si sfata un po' il mito che ad Arezzo non c'è niente per i giovani e le poche cose che sono, sono tutte in centro perché con il nostro bando Il Comune Ti Coinvolge abbiamo dato spazio a 20 associazioni con 20.000 euro per il periodo estivo per dei progetti che spaziano dalla musica al cinema, al teatro, alla cultura in tutti i luoghi della città, si va da Castelsecco, a Tortaia, da Via Malpighi anche al centro chiaramente e con un'ottima partecipazione da parte delle associazioni, una sana competizione. Riuniti simbolicamente i primi quattro progetti premiati rispettivamente con 5.000, 3.000, 2.000 e 1.000 euro. Si tratta dei progetti presentati dalle associazioni Officine Monte Cristo, SBA, Associazione Castelsecco e Arezzo che spacca. Abbiamo pensato di investire tutto su dei tornei 3 contro 3 che è il nuovo sport che sta emergendo nella palla canestro e quindi abbiamo organizzato un sacco di tornei, di eventi sia a livello locale, aperti sia a tutti che ai nostri tesserati e anche a livello nazionale quindi ci sarà un'estate completamente all'aperto nel playground dedicato a Kobe Bayern, diciamo al Palazzetto Le Caselle. Praticamente dal 2 di luglio fino al 19 di agosto invitiamo un po' tutti in questo luogo che merita veramente di essere conosciuto, di essere frequentato e soprattutto per noi deve essere una promozione affinché lassù si possano esprimere non soltanto queste ma un po' tutta la città. Arezzo che spacca presenterà una serie di 8 appuntamenti che andranno a prendere un po' tutto dalla musica, al teatro, al fumetto, alla comicità laboratori con i giovani, concerti e le varie zone d'Arezzo quindi da Malpighi fino alla zona da Marchion quindi insomma alla fine anche un giro nella parte più storica di Arezzo per poi ritornare un'altra volta nelle periferie e tutto inizierà dal 26 giugno fino all'8 settembre. Arezzo Crowd Festival è un festival partecipato che coinvolge giovani sotto i 35 anni e tutta la città di Arezzo in tutti i livelli e organizzeremo più di 40 eventi per tutta l'estate di teatro, musica e arti figurative gli appuntamenti sono ogni due mercoledì per tutta l'estate e dall'8 al 12 settembre. Grazie. 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 Grazie.